Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Qualche giorno fa stavo sistemando alcune cose e ho ritrovato per caso questo mio vecchio iPad che in realtà non ricordavo nemmeno dove lo avessi messo e indovinate un po' è un iPad 2, esatto è così vecchio, è il secondo iPad che Apple ha mai rilasciato. Ricordo che mi fu regalato alla sua uscita che stando alle informazioni online dovrebbe essere stato il 2011 quindi 9 anni fa e tra l'altro fu anche uno dei primi dispositivi Apple in assoluto che ho avuto. Sì non fate caso tanto allo schermo purtroppo mi è caduto molto tempo fa e non ho pensato di sostituire lo schermo anche perché non è che lo stia utilizzando molto, le prestazioni d'altronde sono quelle che sono anche se in realtà devo dirvi la verità pensavo funzionasse ancora peggio. E quindi mi sono chiesto cosa ci potrei mai fare con un dispositivo del genere e la prima risposta quasi banale è stata un secondo schermo per il mio computer e da lì poi giustamente è nata l'idea di questo video. Ho pensato che in tanti potrebbero avere a casa un vecchio tablet che non usano più hanno comprato magari un dispositivo più recente e quello non sanno se venderlo ma alla fine se avete un dispositivo così tanto vecchio come il mio non ne vale veramente la pena. Devo ammettere che non è stato assolutamente semplice e tantomeno veloce trovare delle soluzioni che fossero funzionanti, gratuite e soprattutto compatibili con la maggior parte o con magari tutti i sistemi operativi. Quindi con questo video voglio farvi risparmiare un po' di tempo di tutte le ricerche che ho fatto e consigliarvi secondo me la miglior soluzione che sono riuscito a trovare. Partiamo col dire che il più grande ostacolo che ho dovuto superare su questo iPad è stata la versione di iOS. Apple ormai ovviamente non rilascia più aggiornamenti e l'ultima versione che è possibile installare è la 9.3.5. E questo vale un po' per tutti i vecchi tablet. Altri iPad magari sono arrivati ad iOS 10, iOS 11 o iOS 12 se proprio sono fortunati ma non è possibile ovviamente aggiornarli ad iPadOS 13 come per esempio gli ultimi iPad Pro. E questo non solo elimina dalla lista Sidecar che sarebbe la soluzione più veloce e semplice creata dalla stessa Apple per trasformare l'iPad in un secondo schermo per il proprio Mac. Ma in più tantissime applicazioni non sono proprio installabili perché gli sviluppatori non le hanno rese semplicemente compatibili con una versione così vecchia di iOS. Per fortuna tranquilli quelle che vi consiglierò oggi funzionano sono riuscito ad installarle perfettamente sul mio iPad e secondo me per certi versi sono anche meglio di Sidecar perché sono compatibili anche con Windows, anche con tablet Android e in più anche con smartphone sia iOS quindi iPhone che Android. Le migliori app che ho trovato per questo scopo sono due. La prima è Splashtop X Display e la seconda si chiama Space Desk. Ne ho scelte due per motivi precisi che vi andrò a dire in questo video, ognuna ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi e quindi vi andrò a dire quando secondo me conviene usarne una e quando invece conviene utilizzare l'altra. Cominciamo quindi dalla prima, Splashtop X Display. Questa secondo me può andare bene per la maggior parte degli utenti. Innanzitutto è compatibile sia con Mac che con Windows e anche con i sistemi operativi sia iOS che Android, sia smartphone che tablet. Il programma che dobbiamo installare sul computer è completamente gratis, sia per Mac che per Windows. Basta scaricare il file eseguibile dal sito ufficiale che ovviamente vi lascio qua sotto nella descrizione del video e una volta scaricato basta aprirlo e seguire tutta quanta la procedura guidata. Una volta installato e aperto il programma rimane in background in attesa che colleghiamo un dispositivo da far diventare come secondo schermo per il nostro computer. Per quanto riguarda invece l'app da installare sui nostri tablet o smartphone, beh la situazione è un po' diversa e anche un po' strana. Per iPad e per iPhone esiste una sola applicazione, completamente gratuita, senza acquisti in app e si chiama proprio Splashtop X Display. Ovviamente anche per questa vi lascio il link qua sotto in descrizione. La cosa però strana, anche un po' divertente, è che se scorriamo nella descrizione dice che questo è un prezzo speciale di lancio e che l'app in realtà, il prezzo originale, è di 9 dollari e 99. Però poi se guardiamo la cronologia degli aggiornamenti, vediamo che l'ultimo aggiornamento è stato 3 anni fa. Quindi l'app esiste da più di 3 anni e o stanno facendo un lancio lunghissimo, o si sono scordati di rimettere il prezzo giusto dopo aver fatto la promo gratis, oppure semplicemente hanno cambiato idea e l'hanno lasciata gratis. Non lo so, fatto sta che meglio così l'app è gratis e quindi la possiamo scaricare tutti. Per Android invece esistono due versioni, c'è un'app gratis e un'altra app che costa 7,99€. È la stessa identica app, però quella gratis ha una limitazione, ovvero 10 minuti per sessione, mentre quella da 7,99€ ovviamente non ha limiti. E questo è stato uno dei principali motivi che poi mi ha spinto a cercare anche un'alternativa a questa applicazione. Tra parentesi vi dico subito che dopo i 10 minuti è comunque utilizzabile, l'app funziona allo stesso modo ma semplicemente si disconnette il collegamento e poi banalmente basta chiudere l'applicazione sia sul tablet che sul computer e riaprirla e così avete altri 10 minuti. Lo so, non è l'ideale, specie se usate tanto il computer, è un po' scomodo, però sappiate che se dovete fare delle cose veloci, vi bastano 10 minuti, potete usare anche quella. La particolarità di Splashtop X Display, che può essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda dei punti di vista, è che funziona solamente tramite cavo. Quindi tutto quello che bisogna fare è collegare il nostro tablet o smartphone che vogliamo utilizzare come secondo schermo al computer, assicurarci che il programma sia aperto sul Mac oppure su Windows e poi aprire l'applicazione. E boom, tutto funziona come per magia e lo schermo viene già rilevato automaticamente dal sistema operativo e possiamo vedere che funziona trascinando il mouse nell'estremo a sinistra oppure nell'estremo a destra, dipende dai casi, ed ecco qua che ce lo ritroviamo proprio sul secondo schermo. A seconda di dove posizionate il tablet, quindi se a destra dello schermo principale oppure a sinistra, vi consiglio anche di modificare ovviamente le impostazioni. Su Windows si trovano andando semplicemente sulla schermata delle impostazioni e cliccando poi su sistema schermo, mentre su Mac basta andare nelle preferenze di sistema e poi aprire monitor. Da qui comunque in entrambi i casi si può spostare lo schermo, metterlo a destra oppure a sinistra, perché giustamente se mettete il tablet a sinistra ha molto più senso trascinare il mouse verso sinistra per utilizzarlo, è molto più lineare. All'inizio se avete dei problemi con il collegamento vi do due consigli molto importanti. Se usate Windows e volete condividere lo schermo su un dispositivo Apple, quindi iPad oppure iPhone, è molto importante che abbiate iTunes installato sul computer. Tranquilli, non dovete aprirlo, non dovete utilizzarlo, però semplicemente quando installate iTunes vengono installati anche dei driver aggiuntivi che servono per far funzionare l'iPad o l'iPhone su Windows. Mentre se al contrario usate Mac e volete stendere lo schermo su un tablet o uno smartphone Android, è importante abilitare il debug USB. Non fatevi spaventare, non si tratta dei permessi di root, niente di simile, è molto più semplice. Basta aprire le impostazioni di Android e cercare le informazioni del software. Ovviamente la schermata precisa cambia da smartphone a smartphone, ma non dovrebbe essere difficile trovarlo. Per esempio sul mio Samsung si trova in impostazioni, informazioni sul telefono e poi informazioni software. Da qui dovete cercare versione build oppure numero build e cliccare sulla scritta un tot di volte, di solito sette volte, finché in basso non vi comparirà una scritta che vi avverte che la modalità sviluppatore è stata attivata con successo. Ora non vi basta che tornare nella schermata principale delle impostazioni e cliccate questa volta su opzioni sviluppatore. Da qui vi basta cercare e poi attivare il debug USB. Una volta fatto siete pronti. Collegate il tablet o lo smartphone Android al Mac, autorizzate il collegamento, mi raccomando è molto importante, e poi una volta fatto aprite l'applicazione e dovrebbe funzionare. Se non funziona ancora provate a chiudere il programma su Mac e a riaprirlo e dovrebbe funzionare tutto senza problemi. Quindi abbiamo capito che i vantaggi di questa prima app Splashtop X display sono 1. Che non c'è bisogno di una connessione, funziona tutto tramite cavo, quindi se vi trovate anche in un luogo dove non c'è una linea funzionerà tranquillamente. E numero 2. Che è disponibile e compatibile con tutti i sistemi operativi. Gli svantaggi di quest'app sono però che 1. È sempre necessario avere un cavo. Come vi ho detto è sia un vantaggio che uno svantaggio. Numero 2. Che l'app completa per Android è a pagamento, anche se esiste una versione limitata gratuita. E numero 3. Che non è possibile collegare più di un dispositivo per volta. Ci ho provato con tanti cavi diversi, con tanti computer diversi ma non ci si riesce. Quindi anche se avete due tablet o un tablet e uno smartphone non potete metterne uno a sinistra o uno a destra perché non funziona. Cosa che invece si può fare con la seconda app di cui vi parlo adesso. La seconda app si chiama appunto Space Desk. In realtà il funzionamento non è poi così diverso da Splashtop X display però ha alcune differenze. La più importante è che tutto funziona in maniera wireless, senza bisogno di cavi. Purché i dispositivi siano connessi alla stessa rete wifi. Purtroppo uno dei più grandi svantaggi secondo me è che non è compatibile con Mac ma solo con Windows. Anche questa volta basta scaricare il file dal sito ufficiale che vi lascio sempre qui sotto in descrizione. Ci sono vari download a seconda della vostra versione di Windows. E di nuovo una volta scaricato il file basta aprirlo, seguire tutta quanta la procedura guidata e installare il programma poi sul computer. Sul sito di Space Desk però c'è scritta una cosa molto importante. Ovvero che prima di installarlo bisogna disinstallare Splashtop X display. Che guarda caso è proprio il primo programma che abbiamo visto. Eh lo so, magari alcuni di voi stavano già pensando di installarli entrambi e di usare uno o l'altro a seconda dei casi. Però purtroppo non si può. Sono programmi simili, tra loro danno un po' di interferenza. E quindi semplicemente scegliete qual è più giusto a seconda del vostro caso e installatelo. O perlomeno prima di installarne uno assicuratevi di aver cancellato l'altro. Questa volta però c'è una buona notizia, le app sono completamente gratuite sia su iOS, iPad e iPhone che su Android. Basta scaricarla e una volta aprirla troverà in automatico il server, che sarebbe il nostro computer, connesso alla stessa rete. Ovviamente però il programma deve essere aperto in background sul nostro computer Windows. I vantaggi quindi in questo caso sono molto palesi. Numero uno, non c'è bisogno di nessun cavo. E numero due, si possono connettere più dispositivi per volta. Addirittura io in questo caso ne ho collegati ben quattro, un iPad, uno smartphone iOS e uno smartphone Android. E funzionano tutti senza problemi. Windows li riconosce automaticamente, possono essere sistemati come vogliamo ed è davvero fantastico. Gli svantaggi però in questo caso è che uno, non è compatibile con Mac. E due, che non possiamo utilizzarlo senza una connessione, perché appunto serve sempre una rete. A questo punto prima di chiudere voglio darvi un po' le mie considerazioni finali sulla qualità del segnale, con una e con l'altra applicazione. In generale devo ammettere che funzionano molto molto bene, soprattutto per essere delle app gratuite con tante alternative in giro a pagamento. Splash Top X Display in particolare è perfetto su Mac. Davvero, non c'è nessun tipo di lag, sia connettendolo con dei dispositivi Apple che con dispositivi Android. Si riesce ad utilizzare tranquillamente, c'è forse un micro lag ma non dà nessun tipo di problema ed è davvero ottimo su Mac. Su Windows le cose cambiano un pochino. C'è un leggero ritardo che è un po' superiore rispetto a quello che si trova su Mac, ma ho notato che con i dispositivi Android Windows funziona un po' meglio. Mentre collegando un iPhone o un iPad dà un po' più di problemi. Per essere sicuro però, ho fatto due prove. Uno con un computer un po' più scadente e un altro con un computer invece più potente, più recente. E come mi aspettavo le cose sono migliorate tantissimo. Quindi il collegamento, la qualità del collegamento, eventuali ritardi o lag dipendono anche dalla potenza del vostro computer. Per quanto riguarda invece Space Desk mi aspettavo che fosse il peggiore, dato che il collegamento è completamente wireless e non c'è nessun cavo di mezzo. Invece non è stato affatto così. O perlomeno non dipende dalla connessione. La qualità del segnale dipende interamente dalle prestazioni di ogni dispositivo. Per esempio collegando in simultanea tutti i miei dispositivi che vi ho detto prima, quindi il mio iPad, l'iPhone XR e il Samsung Galaxy S8. Beh, sull'iPad che ha un processore veramente datato, è molto vecchio come dispositivo, lagga parecchio. È stato anzi il peggiore tra tutti i collegamenti sia con Splash Top X Display che con Space Desk. Mentre con l'iPhone XR e il Samsung Galaxy S8, che sono due dispositivi sicuramente molto molto più recenti rispetto all'iPad, beh, in quel caso il collegamento è spettacolare, davvero. C'è pochissimo lag, pochissimo ritardo, è perfetto e si riesce a utilizzare tranquillamente tutto in maniera wireless. Quindi, fantastico. Ah, e se qualcuno di voi solo stesse chiedendo, la qualità non cambia minimamente. Almeno fino a quattro dispositivi collegati contemporaneamente non ho notato differenze rispetto a collegarne uno solo. E che dire, secondo me è fantastico questo metodo. È stato un video, tra l'altro, anche un po' lungo, però ci tenevo ad essere il più chiaro e preciso possibile. Fatemi sapere che ne pensate e se avete delle app del genere da consigliarmi, ovviamente lasciatele qua sotto nei commenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, ma soprattutto se vi è stato d'aiuto, lasciate un bel mi piace al video e iscrivetevi al canale abilitando la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti quanti i prossimi video. E detto questo, grazie per la visione, da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo, come sempre, in un prossimo video.